Sono due colpi con i coltelli. C'è una relazione medica, c'è la cartella clinica, quindi le coltellate sono documentate, poi si può dire quello che si vuole sostanzialmente. Tu ti ricordi altri coltelli con la pressione o altre potenze di questo denore? Io di coltelli, come ho già dichiarato, non ne avevo visti. Però due coltellate, quando ho otto ferite addosso, valutate un po' voi. Non ho nient'altro da dire. Alcuni dicono che i coltelli non ne abbiamo visti. Arrivato il fantasma formaggino e mi sono fatto otto coltellate. Che devo dire? Purtroppo è così. C'è un referto del pronto soccorso, ad ogni modo.